Padre Giovanni parliamo subito del tema dell'incontro di oggi rivolto ai giovani. È un tema un po' particolare la ricerca della felicità nei giovani d'oggi. Il tema vuole mettere in evidenza la necessità dei giovani di ricercare questa felicità nella propria interiorità. Felice è colui che sa chi è e sa che nel fare, nel vivere ciò che è, risulta essere felice. Quindi è una ricerca interiore che partirà da una dimensione prettamente spirituale e accederà anche a delle significazioni di carattere psicodinamico. Lo vedremo con l'aiuto di alcuni autori, Higgins Quark, il quale ci mette di fronte ad una felicità, Pines, cioè come compra, ma sapendo benissimo che non può essere comprata, ma che è la risultante di una interiorizzazione, di un'esperienza di vita, una coerenza dell'esperienza di vita e una scelta continuativa su ciò che si è e si vuole fare. C'è un messaggio in tutto questo che lei vuole dare proprio oggi? Il messaggio fondamentale è che come ogni ricercatore, nella ricerca della felicità è necessario avere delle direttrici di percorribilità e nello stesso tempo di punti di riferimento fondanti che permettono di convogliare questa ricerca su binari sicuri e non spaziare o frammentarsi o liquefarsi in tante esperienze che non sono costitutive di una personalità e non la istruiscono come uomo e come donna. Grazie.